Oh cari amici, mood autunnale. Come sentite ho ancora un po' giù la voce, ho avuto il raffreddore, al mattino si lavora che è buio pesto, oggi piove a dirotto e non so se arriverò vivo al trasloco, ma se ci riuscirò, nell'arco di poche settimane i video verranno registrati nella mia nuova location, nel mio nuovo studio, quindi devo assolutamente tenere duro. Se intanto volete tirarmi su il morale in questo periodo un pochino faticoso, un bel like e l'iscrizione al canale sicuramente sono d'aiuto. Io mi ricollego immediatamente al video che è uscito la settimana scorsa, ve l'avevo promesso, vi avevo detto che saremmo andati avanti, con un discorso legato alle scale, all'improvvisazione in particolare. Quindi come prima cosa vi linko qui sopra il video a cui sto facendo riferimento, il video in cui abbiamo imparato una ritmica basata sull'anticipo. C'è un giro armonico che è dettagliato e spiegato nel video e appunto si accompagna usando l'espediente dell'anticipo, quindi guardatelo in quel video se non l'avete visto. Ora utilizzeremo quell'accompagnamento come base per fare un'improvvisazione, quindi io ho registrato quell'accompagnamento e poi suonerò, sovrinciderò sulla registrazione di quell'accompagnamento per farvi vedere appunto il risultato finale di quello che vi spiegherò appunto in questo video. Cominciamo con un discorso legato a questa improvvisazione, perché voglio farvi fare una cosa veramente facile. Di conseguenza useremo per questa improvvisazione, quindi per questo assolo diciamo, soltanto un ritmo e una scala soltanto. Ma partiamo con la figura ritmica, che innanzitutto vi metto in sovrimpressione, quindi vedrete questo frammento di non pentagramma perché è a riga unica, è una riga di percussioni, volutamente perché le note poi le sceglieremo prendendole dalla scala, ma il ritmo sarà invariato battuta per battuta. Abbiamo una figura che comincia con due sedicesimi, quindi in levare di due sedicesimi, e poi abbiamo quattro ottavi, che coprono quindi i primi due quarti della battuta, il quarto ottavo è legato a un quarto, a un quarto intero, che copre appunto il terzo quarto della battuta, ottavo di pausa e di nuovo i due sedicesimi. Da lì riprendiamo sempre la figura ritmica a cominciare da dove c'è la stanghetta di battuta, quindi noi continuiamo in loop questa figura, eccezione fatta per il finale del brano, ma lo vedremo dopo. Quindi prendendo questa figura in loop, che io adesso vi farò sentire semplicemente con la voce, come se io la solfeggiassi, lo faccio col ta-ta-ta, che va benissimo, e vi renderete conto che noi non facciamo altro che replicare la stessa cosa più volte, ossia avremo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. È semplicissimo, sembro uno di quelli un po' strani che solfeggiano in conservatorio, l'abbiamo fatto tutti in passato, questa roba era una vita che non mi capitava di farlo, speravo di non doverlo fare più, ma in realtà funziona. Funziona perché innanzitutto se noi improvvisiamo, quindi facciamo un assolo, avendo chiarezza sulla figura ritmica che andiamo a fare, quindi non stiamo esplorando un po' a caso, il nostro assolo sarà sicuramente più inquadrato. In secondo luogo ovviamente è semplice se usiamo una sola figura, perché se io vi faccio un'improvvisazione dove vi spiego quattro figure ritmiche da alternare, diventa più complicato, è fattibile, ma poi dovete scegliere battuta per battuta quale figura ritmica utilizzare e lo scopo invece di questo video è fare un'improvvisazione facile. In terzo luogo è una figura ritmica che alterna momenti di movimento, quindi sedicesimi e ottavi, a un momento di staticità, quindi ottavo legato al quarto, quindi nota lunga, e un pregio di ogni assolo è la capacità appunto di alternare momenti di stasi, di staticità, a momenti fermi, a momenti di movimento. Vi ricordo che anche questo video è sponsorizzato da harmonis.it. Harmonis è una piattaforma di videocorsi di musica. Ci sono videocorsi di tutti gli strumenti, c'è pianoforte dove i corsi li ho curati personalmente io, c'è canto moderno, c'è chitarra d'accompagnamento, c'è chitarra elettrica, c'è basso elettrico, c'è ukulele, arriveranno altri corsi, arriveranno altri contenuti, e la cosa bella di harmonis è che harmonis funziona ad abbonamento, e voi non vi abbonate a un solo corso o a un solo strumento, con un singolo abbonamento avete accesso a tutti i contenuti, quindi potenzialmente potete comprare un abbonamento e condividerlo in famiglia, se avete magari una moglie che vuole suonare la chitarra, un figlio che vuole suonare il basso elettrico, e voi suonate il pianoforte e potete creare situazioni in cui ognuno fruisce di corsi e contenuti quando vuole, direttamente da casa, e secondo le modalità che preferisce per quello che riguarda l'apprendimento. Con il codice sconto che trovate in descrizione avete diritto appunto a uno sconto del 20% su qualsiasi piano di abbonamento, quindi andate a dare un'occhiata, fate l'iscrizione gratuita per vedere l'anteprima dei contenuti, e poi se vi piacciono utilizzate il codice sconto per pagare ancora meno rispetto ai prezzi che già sono veramente molto molto alla portata e molto competitivi, dato un'occhiata su harmonis.it. Ora veniamo al discorso della scala, perché c'è discorso legato alla scala da usare, anche qui vi ho promesso che noi usiamo una scala soltanto, il brano, quindi l'accompagnamento del video a cui vi ho fatto riferimento prima, è in sol maggiore. In questo caso, quindi, noi prenderemo la nostra scala di sol maggiore, ossia e di questa scala useremo soltanto 5 gradi. Useremo il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto. Sì, esattamente la famosa scala pentatonica, 5 suoni. Usiamo quindi il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto, ossia primo secondo terzo quinto e sesto Quindi non uso il quarto grado e il settimo grado di una pentatonica maggiore. Perché non li uso? Perché sono gradi pericolosi, sono gradi che rischiano di creare attrito, rischiano di creare urto. Mentre queste note sono tutte note di sicurezza, è molto improbabile che utilizzando queste note io vada a creare degli attriti in corrispondenza degli accordi che sto usando per questo accompagnamento, che userò per l'accompagnamento registrato. Quindi se noi combiniamo queste note, perciò le cinque note che abbiamo estratto dalla scala di sol maggiore e il ritmo che abbiamo fatto prima, ci troviamo sempre e comunque in zona sicura. Quindi tecnicamente cosa succede? succede che io dovrò prendere questo ritmo che adesso vi ho fatto coi sol, basta, e dovrò spostarlo, utilizzarlo alternando le note della scala che abbiamo selezionato prima. Ora una cosa interessante è quella di provare proprio nel lentissimo a vedere quali potrebbero essere queste combinazioni. Io farò gli accordi con la sinistra ma li farò ovviamente in una posizione come se io li stessi suonando con la mano destra. Quindi come detto io adesso provo nel lento non a tempo e vi faccio vedere quali potrebbero essere le possibili combinazioni. Comincio appunto con la mia figura ritmica con la destra in levare. Mischiando queste strategie possiamo arrivare a creare qualcosa di veramente interessante, solo un'annotazione. C'è un accordo a un certo punto che è un accordo di Si settima. Quindi questa è la posizione se io li suonassi in modalità diciamo con gli accordi a sinistra nelle posizioni che farebbe la destra altrimenti questo è l'accordo. Funziona la nostra scala con l'accordo di Si settima? Non funziona particolarmente bene. Può funzionare il re naturale che in realtà è una nona diesis però il sapore è molto jazz, non è sicuramente in stile e non è sicuramente facile da utilizzare in un contesto di improvvisazione semplice. Allora in quel caso visto che l'accordo introduce alterazioni ulteriori rispetto a quelle che sono le alterazioni della scala della tonalità di impianto, me la posso cavare utilizzando tre note che fanno parte della triade nuova, quindi quella che ci introduce alterazioni nuove e che rischierebbe di comportarci problemi e appunto note d'attrito. Un'ultima indicazione che possiamo utilizzare per rendere il nostro assolo un pochino più interessante è quella di utilizzare talvolta le acciaccature, le svisatine, cioè far precedere una nota di arrivo da una notina corta che è di solito una notina che si trova un grado sotto o un grado sopra che fa appunto un'acciaccatura, una sorta di svisata che ce la fa diventare un pochino più interessante, cioè anziché, vi faccio un esempio, anziché questo mi lo faccio precedere da una ciaccaturina, quindi posso farlo anche sulla prima nota, quindi sul primo accordo della battuta e non necessariamente sul secondo e questo crea un po' di movimento in più, si utilizza abbastanza, è una cosa che per esempio ultimo utilizza tantissimo nei suoi accompagnamenti pianistici, lui suona il pianoforte in maniera molto interessante e utilizza spessissimo questo espediente dell'acciaccatura, della svisata che dà un po' di movimento in più. Ora, sulla base di tutti gli elementi che vi ho detto, che vi ho spiegato, andiamo a metterci come base l'accompagnamento del video scorso e io ci suono sopra, vi faccio una versione di improvvisazione. Come vedete diventa apparentemente molto semplice, ma in realtà gli elementi che noi combiniamo sono elementi semplici, si tratta soltanto di fare un po' di pratica, quindi di capire il ritmo e di utilizzarlo con una certa dimestichezza, ma come detto è sempre quello, si tratta di capire la scala, si tratta di riuscire a muoversi un pochino sulla scala, l'elemento dell'acciaccaturina, della svisata può darci un po' di boost in più per farlo diventare meno fermo, diciamo, meno scolastico e può darci quell'attimo di interesse dal punto di vista del movimento e poi impratichirsi un po' con la scala e fare attenzione a quell'accordo di si settima dove abbiamo detto per fare una cosa veramente semplice, semplice, utilizziamo tre note che fanno parte appunto dell'accordo stesso e quindi ci muoviamo in una zona ancora più sicura. Adesso faccio una cosa, io mi tolgo, vi lascio un background neutro e vi metto di nuovo la base, però questa volta non ci sono io che ci sono sopra, quindi questo elemento di video potete utilizzarlo in loop per fare anche voi l'improvvisazione utilizzando a vostra volta come base quell'accompagnamento che appunto io ho registrato e ho utilizzato per farvi questo esempio che vi ho appena fatto sentire, quindi mi tolgo, provateci! Vi ricordo che se avete domande, consigli, dubbi, critiche, cosa, voi scrivete un commento, io i commenti li leggo, cerco di leggerli quasi tutti e come detto cerco di rispondere più o meno a tutti. Sicuramente se volete farmi contento, come vi ho detto a inizio video, un bel like e l'iscrizione al canale sono la cosa più importante e l'unica cosa che vi domando. Vi aspetto presto per un nuovo contenuto sul canale perché vi avevo promesso di incrementare la quantità dei video e le promesse le mantengo sempre, quindi vi aspetto presto per nuovi contenuti, vi aspetto anche su TikTok dove troverete contenuti più brevi, quindi ci sono anche lì, trovate anche lì il link in firma se volete venire a dare un'occhiata, venire a seguirmi e come detto ci vediamo veramente molto presto sempre qui sul canale. Ciao!